Per noi è importantissimo avere la possibilità di incidere sulla realtà locale e per questo è stato fondamentale l'apporto di Copp Liguria perché grazie alla bella collaborazione che abbiamo instaurato con loro siamo riusciti a individuare questa associazione e quindi a devolvere a loro i contributi. Ancora un'iniziativa solidale per Copp Liguria e Procter & Gamble che tra luglio e settembre di quest'anno sono riuscite a raccogliere 6.800 euro destinati all'associazione San Marcellino di Onlus di Genova, in particolare al centro di urno impegnato da molti anni nel sostegno alle persone senza fissa dimora. È una prima assistenza dalla possibilità a quelli che cominciano a avvicinarsi all'associazione attraverso il centro di ascolto di venire qui, di avere la possibilità di farsi una doccia, di farsi lavare gli indumenti, di prendere un caffè, di stare al riparo e certamente per esempio nel periodo dell'alluvione questo è stato estremamente utilizzato. La meccanica della promozione era molto semplice, acquistando 20 euro di prodotti i consumatori Copp Liguria ottenevano in cambio un carnet di buoni sconto da 20 euro e assicuravano all'associazione San Marcellino una donazione di pari valore. I risultati in soli tre mesi sono stati più che soddisfacenti, ma per Copp la lotta alla povertà non finisce qui. È un'iniziativa che noi apprezziamo molto, che rientra nelle nostre iniziative di sostegno alle persone in difficoltà, di lotta alla povertà, per le quali noi abbiamo in modo particolare in atto un programma che è il Buon Fine, che è la destinazione dei prodotti non più vendibili ma ancora consumabili a fini di solidarietà. Grazie.